Sì, proprio con questa è bella, non so che è piccola. Ma che piccola è? Dove è? Volete mangiare qualcosa? Eh, mo vediamo. Guardiamo un spicy cart. Non è che sappiamo leggere noi. Sì, so vai Zimani. Hai detto così? Ha detto così. Ma c'è Berna lì? Lì abbiamo visto un film con il panorama. Ma no, non c'è il mare. No, 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 no. No, vedete? Da qua è sotto. Qui è tutto roccia. Faccio un bicchiato. Quella è casa mia, vedete? Quella è piccola. Quale bo? Io non la vedo. Io non la vedo. Sì, a teoria. Eh, ma tu ci sei...